Incuriosisce non poco il titolo del concerto in programma venerdì 27 agosto a San Giusto nell'ambito della rassegna Trieste Estate, la musica di Andy Warhol. In realtà un indizio non da poco sulla serata è dato dai protagonisti, ovvero gli Stardust, tribute band di David Bowie. David Bowie è stato fortemente influenzato da Andy Warhol e quindi noi come tribute band di David Bowie abbiamo voluto fare un concerto non solo dedicato a David Bowie, che abbiamo già ripetuto molte volte, ma volevamo fare uno spettacolo che abbracciasse qualcosa di più, che dimostrasse quanto la musica può essere ampia e influenzare altre discipline. E il concerto non si limiterà a scandaliare il rapporto fra Warhol e Bowie, curiosità che pochi ricordano, Bowie impersonò Warhol nel biopic su Basquiat, giacché il genio della pop art ebbe rapporti con un numero impressionante di artisti e giocoforza li influenzò. Andy Warhol ha avuto un'arte multimediale che ha influenzato non soltanto l'arte pittorica, ma anche il cinema, il teatro e naturalmente la musica. Non dimentichiamo che per esempio Velvet Underground e Lou Reed sono stati prodotti da Andy Warhol stesso e quindi il nostro obiettivo è quello di celebrare Andy Warhol con la musica che lui ha maggiormente influenzato. Per gli Stardust sarà un nuovo incontro con il pubblico in un momento, quello scandito dalla pandemia, piuttosto strano. Un momento un po' difficile perché effettivamente per la musica è importante che ci sia il rapporto con il pubblico, sentire il pubblico, che ci siano molte persone che partecipano, quindi anche star vicini, gioire insieme della musica, quindi un momento un po' difficile che passerà. Per accedere al concerto che inizierà alle ore 21 è necessario il Green Pass.